Benvenuto a tutti quanti, noi oggi presentiamo nella seconda fase un libro scritto dall'Italo-Svizzero e Roberto Iannuzzi che è un ricercatore Unimed, esperto di area mediterranea, diciamo, medio-orientale. Esatto. Ci modera la serata Sara Koehler e anche lei che ha una sua esperienza su questa zona. Quindi cedo subito la parola a Sara che introdurrà il nostro autore. Penso che sia il caso che lo introduca proprio il nostro scrittore, parlandoci da come nasce questa idea, facendoci un capito scursus in questa panoramica del Medio Oriente. Grazie. Ci vale la parola giuntamente. Grazie. Intanto grazie per essere venuti. Appunto provo a esporvi un po' i contenuti di questo libro che io qui mi sono fatto anche un breve riassunto per cercare di toccare tutti i punti chiave, insomma, visto che la questione ha una sua complessità. La ragione di questa analisi parte dalle crisi che stiamo vivendo tutti quanti in questo momento, insomma, a livello internazionale, che tutti voi avrete presente. Quindi da quelle in Medio Oriente, a partire dalle rivolte arabe nel 2011, che poi sono sfociate in vari conflitti, quindi Libia, Siria e così via. Ma non solo in Medio Oriente, poi c'è la crisi dell'Europa, quindi la crisi dell'Unione Europea, la Brexit, i separatismi, eccetera, eccetera. E c'è questo nuovo scontro tra Stati Uniti e Russia. Quindi c'è un panorama di crisi che da qualche anno a questa parte caratterizza un po' l'ordine internazionale. Allora, lo scopo di questo libro che ho scritto è un po' quello di cercare di capire che cosa sta succedendo a livello internazionale. E siccome quest'ordine internazionale, come si dice sempre, è un ordine a guida americana, l'idea di questo libro era cercare di capire qual era il ruolo degli Stati Uniti e che cosa stava succedendo a questa leadership mondiale, diciamo così. E quindi ho cercato un po' di risalire alle cause, facendo un po' un excursus storico che parte dalla fine della Guerra Fredda e quindi dall'affermarsi della potenza unipolare americana, perché prima c'era uno scontro fra i blocchi, quindi fra il blocco occidentale e il blocco comunista. Con il crollo del muro svanisce questa contrapposizione, rimane il ruolo della potenza americana a livello internazionale che però subisce un'evoluzione fino ad arrivare ai giorni nostri e quindi fino ad arrivare alle crisi che stiamo vivendo in questo momento. Qual era l'ordine mondiale all'indomani del crollo del blocco sovietico? C'era appunto questa permanenza degli Stati Uniti basata su una serie di fattori, quindi innanzitutto la permanenza economica della potenza statunitense, una centralità anche finanziaria perché poi il sistema internazionale ha come fulcro a livello finanziario sono gli Stati Uniti, tutte le operazioni passano per gli Stati Uniti e questo perché? Perché il dollaro è la valuta di riserva internazionale, quella che si usa per gli scambi internazionali, eccetera. C'era anche una supremazia militare degli Stati Uniti legata anche alla Nato, chiaramente agli alleati europei e poi quest'ordine internazionale era costituito dalle istituzioni internazionali che erano già nate alla fine del secondo conflitto mondiale, quindi il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'ONU e così via. Il Fondo Monetario Internazionale in particolare avrà un ruolo, aveva avuto un ruolo molto importante nell'arco durante la Guerra Fredda e poi con la globalizzazione, quindi alla fine della Guerra Fredda nella riconversione economica di una serie di paesi, in particolare i paesi medio orientali di cui questo libro si occupa molto, da un'economia di tipo statalista, socialista, diciamo così, a un'economia di tipo capitalista, quindi il Fondo Monetario è una di queste istituzioni chiave. e poi un altro dei pilastri della globalizzazione, che è l'elemento poi fondante di quest'ordine mondiale all'indomani del crollo del muro, è costituito dalla Cina. La globalizzazione è un fenomeno che inizia già prima del crollo del muro, già dagli anni 70 c'è la diffusione di questo nuovo modello neoliberista, come è chiamato, a partire dagli Stati Uniti, e proprio negli anni 70 il presidente americano Nixon compie questa apertura nei confronti della Cina, all'epoca in chiave di contenimento dell'Unione Sovietica, quindi l'idea era di portare dalla propria parte la Cina per isolare un po' l'Unione Sovietica. e la Cina diventa una fonte mondiale di mano d'opera a basso costo e quindi per la produzione di prodotti a buon mercato e diventa un elemento chiave della globalizzazione. Questi prodotti poi vengono esportati, vengono venduti in Occidente e negli Stati Uniti in particolare. Tutto il surplus di denaro che la Cina acquisiva producendo questi prodotti a basso costo veniva poi reinvestito nel sistema finanziario americano attraverso, acquistando titoli di Stato americani, e quindi si crea questa simbiosi tra Cina e Stati Uniti che esiste ancora oggi e che caratterizza, è proprio un elemento fondante della globalizzazione e contribuisce a finanziare anche il debito americano, ovviamente. Quindi questa è un po' la situazione. Poi questo rapporto comincia ad entrare in crisi proprio con la fine della contrapposizione con l'Unione Sovietica e poi con la crisi del 2008 ci torniamo. Quindi dopo il crollo dell'Unione Sovietica abbiamo a livello internazionale e soprattutto della politica americana due evoluzioni parallele, una politica e una economica. Quella politica si fonda su un principio che viene in qualche modo stabilito dall'establishment politico americano e cioè l'idea di impedire che emerga un nuovo rivale a livello internazionale che possa competere con gli Stati Uniti. Quindi l'idea di prevenire la comparsa di una nuova potenza come era stata l'Unione Sovietica. Quindi l'idea è di plasmare l'ordine mondiale anche militarmente. Quindi c'è per esempio la guerra del Golfo, quando Saddam invade il Kuwait, gli Stati Uniti intervengono. Poi ci saranno tutte le guerre balcaniche negli anni 90, quindi Bosnia e Colombia, sotto all'epoca di Bill Clinton. E l'altro elemento chiave di questo periodo è la mancata integrazione della Russia in questo nuovo ordine internazionale. In altre parole, dopo la scomparsa dei blocchi, di questa contrapposizione, la Nato come sapete si espande sempre di più verso est. Se volete vi posso anche far vedere qualcosa. Questa era una presentazione che io ho fatto in un'altra occasione, quindi c'è una serie di... è un po' lunga, però insomma vi faccio vedere alcune immagini. Questa era proprio l'idea della fine dei blocchi, poi questo è un simbolo della globalizzazione, questo è il porto di Rotterdam. Quindi per dare un'idea del volume dello scambio di merce. Poi l'11 settembre ci arriviamo. Adesso vi volevo far vedere... Ecco, questa è la mappa dell'espansione verso est della Nato. Quindi quelli più chiari sono i paesi storici della Nato e poi quelli più a est che vedete con queste righe, ora è difficile un po' leggere la leggenda, però insomma ci sono due fasi di espansione negli anni 90 e poi dopo il 2000. E quindi la Nato si espande verso est, verso la Russia, ma la Russia non viene integrata in questo sistema. Parallelamente all'espansione della Nato si espande anche in Unione Europea, come sapete. però la Russia rimane ai margini e questo porterà a un problema che poi esplode con la crisi ucraina e di cui parleremo adesso nel seguito. Quindi diciamo, questo era il primo elemento all'indomani della fine del blocco sovietico, quindi impedire la comparsa di un nuovo rivale. La seconda è quella dell'evoluzione, lo sviluppo, la diffusione della globalizzazione. La globalizzazione porta una serie di fenomeni con sé, soprattutto nei paesi occidentali, che sono quelli della delocalizzazione della produzione. Quindi la produzione viene spostata appunto in paesi come la Cina, l'India e così via. Quindi la deindustrializzazione dei paesi occidentali, in particolare degli Stati Uniti, la finanziarizzazione dell'economia, quindi il prevalere sempre di più del sistema finanziario, all'interno del sistema economico degli Stati Uniti in particolare. e questa cosa si accompagna anche con un progressivo aumento delle diseguaglianze, perché la globalizzazione a livello internazionale, a livello mondiale, comporta un enorme arricchimento, diciamo, su scala mondiale, perché indubbiamente la globalizzazione ha portato un grosso arricchimento e alla comparsa di una classe media mondiale, diciamo, in paesi appunto come la Cina, come l'India, il sud-est asiatico e così via. Però anche ha portato alla creazione di grossi squilibri, grosse diseguaglianze e questo è avvenuto in particolare nei paesi occidentali e in particolare negli Stati Uniti. Allora, se torniamo indietro, c'era una mappa, un grafico che volevo far vedere, che è questo e che potrebbe sembrare complicato, ma in realtà è molto semplice, adesso ve lo spiego, diciamo, questa è l'evoluzione, la crescita dei salari medi a livello mondiale e in verticale voi avete la crescita dei salari, vedete la crescita dei salari. Sull'asse orizzontale sono invece le varie fasce di salario, quindi a sinistra avete le classi più povere e andando verso destra le classi più ricche. questo periodo va dal 1988 al 2008, questo è uno studio della Banca Mondiale, questo fa vedere la crescita dei salari in questo ventennio, diciamo così, e come vedete c'è stata una grossa crescita dei salari, dei salari medi, diciamo così, e questo in qualche modo coincide con la nascita di questa classe media mondiale, nei paesi in via di sviluppo e così via, nelle potenze in ascesa. Poi all'estrema destra vedete un picco che è la crescita del reddito delle classi più ricche, quindi le classi più ricche si arricchiscono moltissimo, e c'è invece un picco negativo che vedete prima della parte qui, insomma a destra, ma non prima della parte teorica, e questa è, diciamo, la classe media occidentale, cioè la classe media occidentale rimane al palo, in questa grossa espansione dei salari, l'unica che rimane ferma è la classe media occidentale, e poi, diciamo, le classi più povere che rimangono poverissime. Quindi, questo è un po' all'origine della crisi, poi anche sociale, a cui abbiamo assistito negli Stati Uniti, come anche in Europa, diciamo così. Allora, queste sono le due fasi della globalizzazione, che poi, appunto, giungono a una crisi, a una crisi che è sia economica, e sarà la crisi del 2008, ma anche una crisi che è, diciamo, politica e culturale, che in qualche modo deflagra con l'11 settembre, che voi tutti ricordate. In qualche modo, l'11 settembre è un po' l'esplosione delle contraddizioni della globalizzazione, perché poi la globalizzazione non è solo un fenomeno economico, ma anche un fenomeno culturale, sociale, no? Quindi esporta un modello in altre culture, insomma, creando, appunto, anche delle contraddizioni di tipo culturale. E questo periodo, dal 2001 al 2008, quindi dall'11 settembre al 2008, in qualche modo segna l'inizio della crisi di questa fase di globalizzazione, ma anche un po' il culmine della proiezione degli Stati Uniti a livello internazionale, perché, come voi sapete, dopo l'11 settembre ci sono gli interventi militari in Afghanistan e in Iraq, che tuttavia si risolvono in due fallimenti, nel senso che il progetto americano, che era quello di costruire due Stati democratici, due democrazie in Asia Centrale e in Medio Oriente, in realtà fallisce e anzi, in qualche modo, pone i germi per la nascita nei nuovi conflitti, come poi abbiamo visto in particolare in Iraq e in Medio Oriente, con la nascita dello Stato Islamico, eccetera, eccetera. Adesso ci arriviamo. Quindi c'è una crisi del ruolo americano a livello... Questi due interventi segnano un fallimento a livello militare da parte degli Stati Uniti, e questo fallimento militare, che è importante perché determina l'incapacità poi degli Stati Uniti di intervenire su altri teatri di conflitto, di crisi, cioè il fatto che loro siano intervenuti così massicciamente, cioè inviando un grosso numero di truppe e impiegando un grosso numero di mezzi in questi due paesi, ha comportato con gli Stati Uniti un impegno enorme, quindi anche un dissanguamento delle casse dello Stato americano e ha comportato anche l'impossibilità di intervenire eventualmente altrove, in altre aree di crisi, perché gli Stati Uniti hanno raggiunto il limite delle loro capacità. Questa crisi militare va a sommarsi poi alla crisi economica, che è quella del 2008, quindi tracollo del sistema finanziario americano, delle principali banche americane, che poi determina tutta una serie di conseguenze, quindi fallimenti a catena, disoccupazione, stagnazione, addirittura recessione, eccetera, eccetera. Questa crisi del 2008 segna una crisi di questo modello americano, ma anche una crisi proprio dell'ordine mondiale, in qualche modo, che era stato plasmato negli Stati Uniti a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale e poi all'indomani della fine della guerra fredda, in queste due fasi che ho provato ad accennare prima, quindi con la creazione di queste istituzioni internazionali e con l'espansione della globalizzazione basata sull'economia e mercato. Perché è una crisi non solo americana, ma anche dell'ordine mondiale? Perché questa crisi, come ricorderete, ha un effetto domino, praticamente, che va al di là degli Stati Uniti. La crisi del 2008 si espande poi all'Europa, ai paesi europei, perché i mercati sono interconnessi, quindi c'è un contagio finanziario, scoppia la crisi del debito sovrano nei paesi europei e questo contribuisce anche alla crisi di identità dell'Europa, dell'Unione Europea e così via. C'è una crisi anche della Nato, in qualche modo, una crisi della Nato che in realtà ha la sua origine già alla fine della contrapposizione fra i blocchi, perché la Nato aveva la sua ragion d'essere quella di contenere il nemico sovietico. Venuto a mancare il nemico sovietico comincia a mostrarsi interessi diversi fra gli Stati Uniti e i paesi europei e questo si verifica, si emerge per esempio anche nell'invasione americana dell'Iraq poi nel 2003, invasione rispetto alla quale i paesi come Francia e Germania erano contrari. Quindi c'è un unilaterarismo americano in questa occasione che prima non si era registrato, prima c'era un maggiore coordinamento con i paesi europei. E questo unilaterarismo, fra l'altro, porta anche a una delegittimazione in qualche modo dell'ONU, perché l'ONU perde un po' il proprio potere. Prima le missioni si cercano di fare sotto l'egita dell'ONU, mentre invece l'intervento americano-Iraq segna questa volontà americana di andare avanti, anche se non c'è un mandato delle Nazioni Unite. E la crisi del 2008 segna anche un po' l'ascesa, poi si accompagna all'ascesa della potenza cinese, che nel frattempo si espande economicamente già a partire dagli anni precedenti, quindi dagli anni 90, 2000, con l'accesso della Cina al WTO, all'Organizzazione del Commercio Mondiale, e se c'era stato questo rapporto di simbiosi fra Cina e Stati Uniti, la crisi del 2008 segna anche un po' una crisi di questo rapporto di simbiosi, perché i cinesi cominciano a dubitare un po' della capacità degli Stati Uniti di governare il sistema economico finanziario internazionale, i cinesi non condividono le scelte fatte dagli Stati Uniti, le scelte che hanno portato a questa crisi, e quindi chiedono maggior voce in capitolo per esempio all'interno del Fondo Monetario internazionale e di altre istituzioni internazionali, cosa che gli Stati Uniti sono un po' resti a concedere, e questo sarà l'origine della decisione cinese, che poi avviene negli anni successivi, di creare delle proprie istituzioni internazionali, che in qualche modo sono parallele a queste istituzioni esistenti, quindi al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale, cioè la Cina crea per esempio la Banca Asiatica per gli Investimenti, la Banca dei BRICS, i BRICS sono questo gruppo di paesi, l'agenzia dei rating, anche l'agenzia dei rating, esattamente, cioè loro cominciano a creare un sistema in qualche modo parallelo a quello esistente, e il sistema al quale aderiscono una serie di paesi, per esempio la Banca Asiatica degli investimenti, delle infrastrutture degli investimenti, hanno aderito tutti i paesi europei, Italia compresa, quindi Gran Bretagna, nonostante gli Stati Uniti avessero in qualche modo cercato di frenare poi gli alleati europei, invece tutti hanno aderito, quindi c'è questa, come dire, questa emersione di un polo alternativo, e poi l'altro elemento, e qui arriviamo al Medio Oriente, finalmente, insomma, in senso pieno, è quello delle rivolte arabe, anche le rivolte arabe contribuiscono, insomma, un po' a questa crisi internazionale, a questa crisi delle strutture internazionali esistenti, e sono legate, anche loro, a quello che è successo, in parte nel 2008, e comunque alla struttura economica internazionale, questo perché? Intanto la crisi del 2008 dà un po' una spallata all'ordine regionale arabo, perché i paesi arabi sono sempre stati dei paesi economicamente dipendenti dall'Occidente, in particolare dall'Europa, cioè i paesi, la loro economia è basata sulle esportazioni dirette all'Europa, mentre c'è una scarsissima integrazione economica fra i paesi arabi, e quindi la crisi economica dell'Europa ha comportato un contraccolpo anche per questi paesi, perché potevano esportare di meno, avevano meno turismo, quindi meno introidi deliranti al turismo, c'era per esempio l'Egitto, che ha una fonte di reddito essenziale nel canale di Suez, ovviamente ha visto ridursi i volumi di commercio che attraversano il canale, quindi una riduzione delle proprie entrate, quindi c'è stato un legame diretto, ma al di là di questo le rivolte arabe segnano la crisi di un modello regionale che è quello dello Stato-Nazione arabo, che in qualche modo era emerso all'indomani della fase coloniale. Questo modello di Stato-Nazione arabo è un modello in qualche modo importato, che non era mai esistito a livello di questi paesi il concetto di Stato-Nazione e inizialmente, soprattutto per quanto riguarda le repubbliche arabe, quindi l'Egitto di Nasser, la Siria, di Assad, eccetera, nelle repubbliche si afferma un modello di tipo statalista, socialista, in contrapposizione proprio a quella che era stata l'esperienza coloniale, che era un'esperienza capitalista, quindi loro in contrapposizione adottano questo modello alternativo, che però fallisce in qualche modo nella contripposizione fra i blocchi durante la Guerra Fredda, insomma, il Medio Oriente fra l'altro è uno dei terreni di scontro della Guerra Fredda. E quindi questi paesi assistono a una riconversione economica che viene guidata fra l'altro proprio dal Fondo Monetario Internazionale, una riconversione economica all'economia di mercato. tuttavia questa riconversione economica avviene in un contesto di regimi autoritari, quindi gli squilibri di cui avevamo parlato prima a proposito di globalizzazione in quei contesti si acuiscono enormemente perché la ricchezza viene monopolizzata da alcune elite legate ai regimi e il resto della popolazione viene tagliato fuori e anzi rispetto ai sistemi diciamo statalisti che c'erano negli anni precedenti la popolazione si vede anche privata di una serie di servizi che questi regimi fornivano quindi assistenza sanitaria, istruzione gratuita eccetera eccetera a questi nuovi modelli tutto questo viene a mancare quindi la crisi di questi regimi era in realtà una crisi prevedibile da tempo e che scoppia nel 2011 per una confluenza di fattori tra cui anche la crisi del 2008 che contribuisce a dare una spallata importante diciamo così e quindi questo è il panorama internazionale diciamo dal 2008 un po' insomma quindi questa crisi ora cercando di concludere di arrivare alle conclusioni insomma che gli Stati Uniti quindi si trovano di fronte nel 2008 all'indomani quindi il 2009 quindi quando arriva il potere Obama si trovano di fronte a dover gestire una crisi interna molto grave cioè la necessità di ricostruire finanziariamente economicamente il paese e in più c'è una crisi internazionale c'è una crisi degli alleati europei c'è una crisi appunto con lo scoppio di ricolte arabe del sistema dell'architettura di sicurezza americana in questa regione nella regione medio orientale che è una regione importantissima appunto di vista strategico per le risorse energetiche ma anche per le rotte commerciali perché diciamo appunto il canale Suez il golfo persico sono regioni strategiche insomma e quindi diciamo Obama si trova a dover gestire questa duplice crisi interna ed internazionale che cosa cerca di fare lui cerca di disimpegnarsi da quelli che erano stati le missioni americane all'estero quindi Afghanistan e Iraq in particolare Obama si ritirerà dall'Iraq non riesce invece a ritirarsi dall'Afghanistan tant'è che ancora oggi c'è una presenza militare occidentale e americana soprattutto anzi Trump ha inviato altri 4.000 soldati in questo momento però la sua idea è di disimpegnarsi quindi di ricostruire internamente il paese di fare un ribilanciamento delle forze americane verso il Pacifico perché lui capisce che il vero avversario degli Stati Uniti è la Cina e quindi si parla di questo pivot verso l'Asia come viene definito cioè il ribilanciamento verso l'Asia della forza militare americana e in Medio Oriente lui adotta questa questa strategia di offshore balancing come viene chiamata o di leading from behind cioè del guidare da dietro e dell'offshore balancing sarebbe il bilanciare le dinamiche regionali attraverso alleati locali quindi gli Stati Uniti cercano di utilizzare i propri alleati regionali per gestire a vantaggio dei propri interessi diciamo così senza più intervenire direttamente come avevano fatto in Iraq e così via quindi questa è la strategia di Obama però quello che succede all'indomani delle rivolte arabe è qualcosa che gli Stati Uniti non riescono a gestire perché scoppiano una serie di conflitti come voi sapete c'è l'intervento in Libia che in qualche modo in realtà è voluto soprattutto dalla Francia e anche dalla Gambetagna e gli Stati Uniti in qualche modo seguono e però l'intervento si rivela un fallimento come possiamo ben vedere c'è la rivolta siriana che scoppia nella guerra civile che poi risulta in una serie di interventi regionali e internazionali quindi diventa un conflitto regionale e poi magari approfondiremo questa cosa e anche lì loro gli Stati Uniti sotto Obama intervengono in questo conflitto perché non è che non intervengono però non intervengono direttamente ma basandosi sugli alleati regionali quindi su Turchia Arabia Saudita Qatar eccetera eccetera questa crisi quella della Siria a fianco e quella del vicino Iraq a fianco contribuisce determina l'emersione dello Stato Islamico e anche in questo caso gli Stati Uniti adottano questa strategia di offshore balancing cioè si basano si appoggiano ad alleati locali per combattere lo Stato Islamico e intervengono solo con l'aviazione però gli alleati che combattono sul terreno sono il governo iracheno le milizie sciite di Baghdad i kurdi e i ribelli siriani insomma e ora lo Stato Islamico militarmente è quasi debellato però nel frattempo questa cosa questa tattica diciamo di utilizzare alleati regionali sta portando all'emergere di nuovi conflitti quindi lo scontro fra kurdi e Turchia fra kurdi iracheni e Stato centrale iracheno e così via quindi diciamo questa strategia non ha successo a livello internazionale ma anche sul fronte interno Obama non riesce in realtà a rimettere in piedi seriamente gli Stati Uniti perché se è vero che faticosamente l'economia riprende a crescere rimane una crisi sociale profonda negli Stati Uniti che è data dalla pregalizzazione del lavoro dalle tensioni che ci sono anche raziali a cui abbiamo assistito da questa ondata populista che ha investito l'Europa ma anche gli Stati Uniti e di cui Trump è in qualche modo la manifestazione esatto quindi per concludere diciamo la situazione attuale è proprio una situazione in cui permane questa crisi interna e Trump ne è la manifestazione in questo momento c'è uno scontro durissimo politico all'interno degli Stati Uniti oltretutto che ruota attorno alla personalità di Trump e poi ne potremo anche parlare se volete e approfondire questa cosa e quindi permane la crisi interna americana in più c'è un panorama di crisi internazionali in questo panorama ho tralasciato ho dimenticato di accennare alla questione allo scontro con la Russia lo scontro con la Russia nasce già in Siria perché quando gli Stati Uniti intervengono diciamo per procura indirettamente in Siria a favore dei ribelli i russi invece intervengono a sossegno del regime quindi questa nuova guerra fredda tra virgolette che nasce fra Stati Uniti e Russia si manifesta già con il conflitto in Siria e poi nel 2014 si accuisce ulteriormente con la crisi ucraina invece e quindi con lo scontro in Ucraina che è in qualche modo il culmine di quella mancata integrazione della Russia di cui avevo parlato prima e cioè del fatto che la Nato si è espansa verso l'estero però lasciando fuori in qualche modo la Russia e la crisi ucraina registra la reazione dei russi i quali intervengono in qualche modo impadronendosi della Crimea e quindi questa contrapposizione con gli Stati Uniti si acuisce ulteriormente e poi peggiora ancora con l'intervento militare russo in Siria intervento che poi avverrà proprio durante la campagna elettorale americana quindi c'è questo scontro durissimo fra Russia e Stati Uniti che coincide con la campagna elettorale americana e come voi sapete Trump invece voleva compiere un'apertura nei confronti della Russia e quindi viene osteggiato da gran parte dell'establishment politico americano e in qualche modo questa contrapposizione con la Russia viene a incidere sul panorama politico interno americano perché lo scontro che c'è adesso con Trump ruota il famoso Russia Gate quindi la presunta ingerenza dei russi nelle presidenziali americane e fa parte in qualche modo di questa contrapposizione quindi questa è la situazione attuale in cui c'è una crisi interna negli Stati Uniti una crisi internazionale su vari fronti che abbiamo che vi ho enunciato e quindi ci sono una serie di incognite e in qualche modo c'è una crisi di quest'ordine mondiale che era stato plasmato alla fine del secondo conflitto mondiale che poi si era affermato definitivamente con la scomparsa del blocco sovietico e forse c'è chi parla della nascita di un nuovo ordine mondiale ma che in questo momento è tutto da definire si parla di multipolarismo e così via di questo ruolo cinese eccetera eccetera però sono tutte cose da definire e nel frattempo però c'è una crisi internazionale da gestire molto difficile con focolai di tensione sparsi un po' in tutto il mondo poi c'è la Corea e così via quindi questo è il panorama che il libro cerca di descrivere poi a questo punto possiamo passare da approfondire delle cose nel libro si parla anche di questo paese emergente questo nuovo Iran che sta uscendo allo sbaraglio nel contesto anzi nel rapporto proprio con gli Stati Uniti questo Iran lei che lo ha analizzato è un po' anche nascosto al pubblico come lo vede? il rapporto con l'Iran è un rapporto conflittuale tra gli Stati Uniti e l'Iran è un rapporto conflittuale dal 1979 quindi dalla nascita della Repubblica Islamica cioè che rovescia lo Shah di Persia che prima era invece un alleato degli Stati Uniti quindi nel 1979 l'Iran da alleato degli Stati Uniti e in qualche modo da pilastro dell'architettura di sicurezza americana nella regione diventa un avversario prima gli Stati Uniti si basavano proprio sull'Iran e sull'Arabia Saudita erano questi due pilastri che in qualche modo facevano gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente e permettevano agli Stati Uniti di non avere una presenza militare diretta in Medio Oriente tant'è che la militarizzazione in particolare del Golfo da parte degli Stati Uniti quindi la creazione di tutta una serie di basi militari avviene successivamente e avviene dal 90 in poi praticamente loro prima si erano appunto basati su alleati regionali dalla prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein nel 90 avviene invece una progressiva militarizzazione quindi presenza di basi militari americani nel Golfo in particolare dell'Arabia Saudita che poi contribuiranno la cui presenza contribuirà alla nascita di Al-Qaeda fra l'altro perché questa presenza viene riputata in particolare dalla popolazione saudita da tutta una serie di figure anche politiche e diciamo una delle conseguenze è anche la nascita di Al-Qaeda però tornando all'Iran con la rivoluzione islamica del 79 con la nascita della Repubblica Islamica l'Iran diventa quindi un nemico e gli Stati Uniti hanno sempre cercato di contenere questo avversario sia economicamente che militarmente ricorderete che negli anni 2000 c'è stata tutta la contrapposizione legata alla questione nucleare iraniana che in realtà è solo una parte della contrapposizione tra Stati Uniti e Iran e che in qualche modo era al suo culmine questa contrapposizione era al suo culmine proprio quando scoppiano le rivolte arabe quindi nel momento in cui oltretutto ci sono due fasi perché inizialmente le rivolte riguardano soprattutto regimi cosiddetti filo-occidentali quindi filo-americani inizialmente la Tunisia poi l'Egitto quando la rivolta le rivolte si estendono anche alla Siria la Siria è il primo paese il primo regime che in qualche modo non è filo-occidentale poi c'è anche Gheddafi che in qualche modo però aveva avuto un cammino di avvicinamento all'occidente anche se non di piena molto avvicinamento esatto esatto con tutti gli accordi bilaterali anche stessi in Italia quindi Gheddafi era una situazione un po' particolare cioè un regime che era nato come nemico dell'occidente degli Stati Uniti e poi era diventato invece un partner economico e commerciale ma non pienamente integrato tanto è vero che poi abbiamo visto che ci sono stati anche interessi a rovesciarlo quando si è manifestata l'occasione la Siria quando è scoppiata di volta in Siria la Siria era il primo regime realmente ostile all'occidente a essere coinvolto da questa ondata di volte quindi la possibilità di rovesciare il presidente siriano Assad in qualche modo era anche un modo per infliggere un colpo all'Iran e quindi per stringere ulteriormente questo assedio all'Iran questa era un po' la logica degli Stati Uniti poi c'era la logica degli allenati regionali e quindi in particolare dell'Arabia Saudita per la quale l'Iran è sempre stato un avversario storico perché l'Iran è una potenza sciita della regione esattamente c'è una contrapposizione dell'Arabia Saudita l'Arabia Saudita è il baluardo dell'Islam sunnita mentre l'Iran è l'unico paese a maggioranza sciita diciamo così ora c'è anche l'Iraq c'è una maggioranza sciita c'è un governo sciita però insomma storicamente il centro roscismo era l'Iran e oltretutto con la nascita di una repubblica islamica in Iran l'Iran compete con l'Arabia Saudita per il ruolo di leader del mondo islamico quindi c'è questa rivalità fortissima e quindi nel momento in cui scoppia questa crisi in Siria i sauditi hanno interesse a rovesciare Assad perché Assad era un alleato chiave dell'Iran l'unico alleato arabo statuale diciamo poi ci sono sbollagli e quindi c'era questo interesse insomma quindi questa contrapposizione entra molto in gioco nel conflitto siriano ancora adesso c'è una contrapposizione anche fra Iran e Israele che incide profondamente però poi durante il mandato di Obama c'è stato anche questo negoziato il negoziato nucleare che ha in qualche modo smussato questo conflitto nel frattempo Assad riprende il sopravvento in Siria quindi Kerry cerca anche di stabilire una via negoziale in qualche modo tanto è vero che lui ha negoziato molto con i russi e ci sono stati contrasti all'interno della stessa amministrazione americana perché Kerry era più favorevole ha negoziato il Pentagono invece era contrario e si sono anche un po' fatti scherzi a vicenda insomma si sono contrastati tant'è vero che poi questi tentativi di tregua che sono stati fatti in Siria durante il 2016 fondamentalmente e che ruotavano essenzialmente attorno alla città di Aleppo che voi avrete sentito nei telegiornali insomma sono sempre poi fallite Trump in questo momento ha un approccio molto contraddittorio che in parte è il risultato del fatto che lui stesso è contraddittorio ma non solo cioè lui non ha una strategia chiara ma neanche il suo intourage diciamo così ma al di là di questo la contraddittorietà della politica estera americana è anche il frutto di uno scontro politico molto forte che c'è in questo momento all'interno degli Stati Uniti e che ruota in particolare intorno a Russia Gate ma anche proprio alle linee di politica estera da seguire e che hanno portato anche a una modifica un'evoluzione delle componenti dell'amministrazione americana di Trump tanto è vero che c'è stato un cambio del cosiddetto consigliere della sicurezza nazionale quel Mike Flynn che era un generale che poi si è dimesso perché coinvolto è Russia Gate l'altra figura che è stata che è uscita di scena è questo Steve Bannon che era un po' l'esponente populista del suprematismo bianco insomma quindi l'ideologo un po' di Trump mentre invece sono emersi una serie di figure affiliate al pentagono fondamentalmente cioè generali o ex generali che sono questo James Mattis alla difesa che è stato scelto fino all'inizio da Trump ma poi c'è questo questo McMaster che è il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale che anche lui è un esponente dell'esercito e lui è subentrato a Mike Flynn quello che è stato costretto a dimitersi e l'altra figura è John Kelly anche lui un generale che adesso è il capo dello staff della Casa Bianca Trump ha molto demandato anche una serie di scelte di politica estera a questo gruppo diciamo a questo team di generali tant'è vero che se da un lato c'è anche una continuità nella politica estera in particolare per esempio nella lotta all'ISIL allo Stato Islamico perché la lotta allo Stato Islamico era gestita dal Pentagono sotto Obama ed è gestita dal Pentagono sotto Trump però per altri versi c'è un forte sbilanciamento tra il Ministero della Difesa cioè il Dipartimento della Difesa e quindi il Pentagono e quindi tra un approccio militare alle questioni internazionali e un approccio invece diplomatico che dovrebbe essere giocato dal Dipartimento di Stato Dipartimento di Stato sotto questo Rex Tillerson che adesso è il segretario di Stato ex manager della ExxonMobil questa compagnia grossa compagnia petrolifera però sta giocando un ruolo molto marginale e questo un po' dipende dagli equilibri che ci sono all'interno dell'attuale amministrazione ma è un po' anche il frutto di una tendenza storica che si è affermata negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre perché all'indomani dell'11 settembre proprio a livello di finanziamenti si è manifestato uno squilibrio crescente fra il Pentagono quindi il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento di Stato i fondi sono andati tutti al Dipartimento della Difesa il Dipartimento di Stato ha ricevuto una quantità di fondi sempre minore quindi loro hanno proprio un problema di gestione di gestione personale diplomatico ora Tillerson addirittura sta compiendo tutta una riforma del Dipartimento di Stato che molti hanno giudicato uno smantellamento addirittura di intere strutture diplomatiche eccetera quindi l'approccio diplomatico degli statini in questo momento è carente e quindi il rischio è che è quasi zero quindi il rischio è che da una parte abbiamo delle strategie che sono essenzialmente disegnate dal Pentacono e dall'altra da un presidente come Trump che ha una scarsissima conoscenza di politica estera innanzitutto delle questioni di politica estera e poi ha insomma è molto un divaco e contraddittorio quindi insomma la strategia americana in questo momento è una grossa incognita ma su questo punto proprio sulla strategia disegnata se vogliamo se ci allarghiamo un po' sull'ultimo secolo il decennio critico è quello che va dal 1980 al 1990 lì inizia il vero unilateralismo americano finisce Bretton Woods rimane in piedi fondamentali internazionali crolla il muro di Berlino non certo quello che è già dagli anni 70 perché Bretton Woods è con Nixon esatto e Reagan ridisegna lo scacchiere cioè il muro di Berlino non cade perché l'hanno abbattuto ma perché non serve più lo scacchiere segue la distensione NATO che ha fatto vedere nella cartina da lì dagli anni 90 inizia l'espansione verso l'estero chiaro che c'è una tendenza storica ma la NATO ha ridisegnato il suo confine dalla Polonia a Turchia fino allo strumento di Gibraltar che guarda caso è la linea dei confini su questo il pentato non lo sa gestire benissimo questo aspetto però aver portato a zero la parte diplomatica ha fatto sì che finire Bretton Woods frutto del genio di Winston Churchill perché era Yalta a Bretton Woods dove c'era la Russia c'era l'Europa rappresentata da Churchill c'erano gli Stati Uniti alla fine della guerra fredda in questo snodo tra 80 e 90 è rimasta una nuova cortina ma non c'è più una Yalta perché non c'è più una Yalta? eh sì cioè è il frutto di una tendenza storica giustamente però in questo momento in qualche modo c'è un'accelerazione di tutta una serie di fenomeni e quindi appunto anche questo unilateralismo si è già manifestato giustamente negli anni passati nei decenni passati in varie tappe però in questo momento ha raggiunto dei livelli mai registrati prima tant'è però che lo stelo tra le idee di Trump c'è anche quella di smantellare tutta una serie di accordi che poi sono fondanti della globalizzazione uno delle prime cose che lui ha fatto quando è giunto alla Casa Bianca è stato quello di tirarsi fuori da questa Trans-Pacific Partnership che è un accordo di libero scambio che gli Stati Uniti stavano contrattando con i paesi del Pacifico ed era uno dei due grandi progetti di accordi di libero scambio che gli Stati Uniti avevano in cantiere uno è questa Trans-Pacific Partnership e la Trans-Atlantic Trade Investment Partnership e cioè un accordo di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa l'idea era di creare due enormi aree di libero scambio cioè una nell'Atlantico e una nel Pacifico tra l'altro ha lo scopo di contenere e di isolare la Cina perché poi insomma dietro c'era questa questa idea Trump e quindi diciamo sono due elementi che erano in continuità con la globalizzazione se vogliamo anche se non del tutto perché poi l'idea di creare delle aree preferenziali in qualche modo va contro il concetto di globalizzazione che in qualche modo prevederebbe un'area di libero scambio mondiale mentre invece già se si creano delle aree preferenziali questa cosa va contro però Trump che cosa ha fatto? Si è spinto ancora più in là uscendo dalla partnership del Pacifico quindi da questi negoziati che ormai erano giunti quasi a compimento quindi lui ha smantellato questa cosa e la sua idea è quella di portare avanti tutta una serie di accordi bilaterali con i singoli paesi che in qualche modo è lo smantellamento totale dell'idea di globalizzazione oltretutto togliendo sobbia il Dipartimento di Stato quindi senza diplomazia gli accordi bilaterali chi ricostruisce? si poi quello è una cosa che fanno più è un ruolo che spetta più al tesoro però si si diciamo c'è una serie di contraddizioni in questo momento la politica americana che sono una manifestazione della crisi che stanno attraversando gli Stati non c'è niente da fare quindi c'è la crisi di questo ruolo americano che è una crisi molto importante e che in qualche modo dovrebbe essere colmata purtroppo uscire anche dall'UNESCO perché uscire dall'UNESCO? si 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 è perché appunto c'è questa idea di non ci sono patrimoni gli Stati di Stati ma il patrimonio anche lascia un congresso alboli per me è un patrimonio c'è un paradosso che è molto simpatico da osservare che in fondo quelli che stanno criticando Trump non hanno letto Klein non lo che lui sta esattamente facendo che scrive lei che mi fa sempre pensare ai marxisti degli anni 70 che non avevano mai letto Marx ma è la stessa identica cosa è la stessa identica cosa non mi Klein ha parlato ieri a televisione francese lei è non contro Trump quello contro quelli che hanno eletto Trump e lui fa esattamente quello che dice lei ma la gente non se ne accorge sta sbandelando ma è straordinaria questa cosa si ma è straordinaria mi fa pensare al 68 tutta quell'epoca la i marxisti tutti quelli che di Marx non avevano mai letto una linea mai righe in italiano righe in italiano ma la mia righe ah ecco si righe ma lei considera ancora la Russia come un global player se si avvicinano economicamente stanno molto male malissimo anche il punto di vista militare non sono più lì perché non mancano i soldi si ma parte il sottomarino l'ha visto che hanno fatto con il sottomarino si si è carino ma come per i soldi la Russia è quasi patrota adesso sta a limite anche con la crescita anche a causa del petrolio quindi perché si parla per esempio la Russia confrontando con gli Stati Uniti la Russia ha 144 milioni abitanti un brutto una voluta molto più bassa del paese per centri è un'abitudine è un'abitudine è un'abitudine nel senso che diciamo c'è già la grafica pronta no dico il player è la Cina cioè BRICS è Brasile Russia India Sudafrica mette insieme tutte queste economie la Russia è sono centomila persone non conta nulla che l'India da sola la batte si si ma comunque la Russia non va ma confrontando la Russia perché diciamo sempre insieme la Russia è entrata si viene sempre la Russia come una minaccia ma la Russia da sola non dice perché i giornalisti quello sanno cioè nessuno ha visto per esempio che l'India è entrata per la prima volta una portaria cinese è molto giusta la sua osservazione nel senso che appunto il vero avversario degli Stati Uniti non è la Russia ma è la Cina è la Cina perché sia da un punto di vista essenzialmente dal punto di vista economico perché la Russia non può competere con gli Stati Uniti assolutamente e bisogna dire alcune cose e cioè viene anche esagerata cioè c'è una grossa disinformazione da parte dei media nei confronti della Russia quindi viene anche esagerata un po' la crisi economica russa è vero che la Russia non è un competitor per gli Stati Uniti assolutamente però è stato detto a più riprese che erano sull'orlo del collasso un po' come l'Iran il che non è tant'è vero che l'economia russa adesso sta riprendendo a crescere nonostante le sanzioni europee ed americane è ovvio che rimane appunto rimane un'economia non comparabile con quella americana quindi non c'è non c'è questa possibilità da un punto di vista militare le cose sono un po' diverse perché la Russia ha attraversato una fase di profonda crisi militare dopo il crollo al blocco sovietico fino alla guerra in Georgia del 2008 dove i russi sono intervenuti e vincendo quello scontro ma era ovvio però insomma da quel momento in poi Putin si è reso conto della necessità di dover modernizzare le forze armate russe e ha investito molto in realtà nell'esercito nelle forze armate eccetera quindi ha modernizzato tantissimo le forze armate tant'è vero che i risultati si sono visti in Siria diciamo così l'intervento in Siria che ha stupito gli stessi osservatori americani quindi militarmente è ovvio che i russi neanche militarmente sono un avversario per gli Stati Uniti da un punto di vista quantitativo diciamo perché gli Stati Uniti sono comunque l'unica potenza globale cioè sono l'unica potenza che ha forze armate e basi militari dispiegate in tutto il mondo l'unica i russi però hanno una potenza soprattutto hanno delle eccellenze tecnologiche che sono comparabili con quelli degli Stati Uniti quindi se quantitativamente non possono competere qualitativamente sì e quindi nell'ambito di un conflitto limitato per esempio con quello siriano dove poi loro hanno investito molto di più negli americani ovviamente loro possono giocare un ruolo però è chiaro che il vero avversario non è la Russia ma il vero avversario è la Cina perché gli Stati Uniti si la prendono tanto con la Russia anche per una eredità storica se vogliamo che è quella che è quella dobbiamo girare tutti gli 007 adesso ci apprezziamo dopo tanti anni che fai giù no ma la Cina anche militarmente col fatto che è diventata un player anche nel campo della ricerca la Cina è ormai il secondo per 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 il secondo paese a livello mondiale dopo gli Stati Uniti anche se è molto sotto gli Stati Uniti gli Stati Uniti praticamente spendono quanto più di tutto il resto del mondo messo insieme come spese militari però poi ci sono i cinesi che stanno aumentando le spese militari esponenzialmente mentre i russi rimangono comunque con una spesa molto abbastanza contenuta però il regime sta compiendo una serie di scelte che sono razionali in realtà e la loro scelta è quella di sviluppare un potenziale nucleare perché è un è un è un fattore un deterrente contro gli Stati Uniti il problema della contrapposizione fra Corea del Nord e Stati Uniti è qualcosa che risale cioè è un'eredità del secondo conflitto mondiale del conflitto che c'è stato poi fra le due Coree un conflitto che non è non è mai sfociato in un vero trattato di pace c'è un ammestizio lì e che è rimasta questo confine armato diciamo così e questa fortissima presenza militare americana anche tutto intorno perché c'è nel Giappone c'è nella Corea del Sud eccetera quindi il regime coreano ha pensato di sviluppare questo deterrente nucleare come autodipo salvaguardi esatto per garantirsi la sovravvivenza secondo una logica un'evoluzione non troppo dissimile poi da quella iraniana solo che loro sono arrivati adunque cioè loro hanno in questo momento davvero hanno sia la bomba atomica che hanno anche i vettori per poterla c'è una logica nelle loro azioni c'è una logica c'è una logica e quindi per quanto siano fuori luogo eccessive le loro sparate e propagandistiche eccetera eccetera però sono comunque un attore razionale diciamo così che in qualche modo fa sì che uno dovrebbe essere garantito sul fatto che loro mai lanceranno per primi un'arma atomica se non perché si sentono profondamente minacciati e quindi potrebbero farlo con un possibile attacco preventivo ma sarebbe comunque suicida quindi il lancio del vettore sopra il Giappone nessuno l'ha detto ma non ha violato nessun trattato perché essendo andato nello spazio extra atmosferico non ha sviolato il territorio del Giappone e quello spazio Stati Uniti e America hanno sempre evitato di regolamentarlo per poter esabolare tutto il pianeta per poter fare tutti gli esperimenti balesici quindi lui ha fatto un percorso di quel vettore e non ha violato nessun trattato quindi cosa gli vuoi dire ha lanciato un pezzo di ferro tu le regolamenti gli c'era è rendato in acqua internazionale comunque l'elemento fondamentale la logica è ferrea di quella scatoletta piccolina non solo ma questo così detto pazzo tiene in scacco il partito comunista cinese che non può fare assolutamente niente questo è un colmo ci sono due elementi chiari in questa crisi una è il fatto che obiettivamente loro ormai hanno un deterrente nucleare per quanto ancora non completamente sviluppato ma ce l'hanno quindi diciamo l'unica logica l'unica politica logica da portare avanti nei confronti di questo regime sarebbe una politica di contenimento perché non ci sono altre alternative quando Trump minaccia l'intervento militare è una sparata ed è soprattutto anche molto pericolosa perché è una follia nel senso che se volete ci abbiamo anche vediamo se no indietro che questo può essere interessante ecco questo è lo scacchiere del pacifico e questo adesso vi posso accennare un po' più approfonditamente su questo per chiudere il discorso della Corea quindi quando Trump minaccia un intervento militare fa delle sparate anche un po' pericolose perché poi se il regime si sente seriamente minacciato potrebbe a quel punto reagire perché non c'è una soluzione militare perché come è stato detto oltretutto proprio nei giorni scorsi per garantire la distruzione di tutti i siti nucleari nordcoreani sarebbe necessario un intervento di terra inoltre la Corea del Nord oltre ad avere un arsenale nucleare ha un arsenale convenzionale molto nutrito e quindi se anche è ovvio che perderebbe un confronto militare ma nel frattempo potrebbe praticamente radere al suolo a metà di Seoul per capirci e anche colpire il Giappone quindi cioè sarebbe un intervento militare dai costi spropositati per non parlare poi del rischio di tensione internazionale e quindi di un'ulteriore escalation del conflitto cioè si potrebbe non viene trancola domica è uno scenario impensabile no arriviamo a veramente diciamo veramente si arriva a scenari di rischio di terza guerra mondiale cioè è uno scenario impraticabile l'intervento militare cioè c'è anche qualcuno che lo pensa ma insomma non è proprio praticabile quindi l'unica soluzione è il contenimento insomma di questo non c'è non c'è alternativa a questo punto oltretutto c'erano anche stati negoziati con la Corea del Nord in particolare sotto Bill Clinton quindi ci sarebbe stato il modo di fermare prima questo programma nucleare prima che fosse completamente sviluppato e Bill Clinton aveva raggiunto un accordo con il regime che però non venne mai implementato del tutto anche perché nel secondo mandato di Clinton lui era debole c'era già il congresso repubblicano contro poi quando arrivò Bush inserì la Nord Corea nell'asse del male e lì loro ripresero lo sviluppo del loro programma nucleare e le cose sono andate ci mangiamo qualche svizzero tedesco perché lui parla lo svizzero tedesco Kim Jong-un ha studiato a Bern lui parla lo svizzero tedesco finisce la proposta di mandare qualche svizzero a trattare con lui bravo l'altra questione fondamentale che sta dietro il conflitto con la Corea del Nord è proprio quello cioè il fatto che in realtà dietro c'è la contrapposizione con la Cina allora perché la Cina ha paura di smantellare questo regime perché la Cina ha paura che se questo regime venisse smantellato i cinesi si ritrovano le basi americane al confine cinese quindi loro per questo non vogliono cioè sono anche d'accordo nel tenere isolato questo regime ma hanno paura nell'idea di smantellarlo completamente e qui diciamo in questa cartina emerge un po' quella che è la contrapposizione militare invece fra Cina e Stati Uniti di cui un po' accenno anche nel libro e la costa cinese la costa cinese è l'unico sbocco che i cinesi hanno al commercio internazionale quindi quello che temono i cinesi è un accerchiamento americano e quello che loro quindi stanno facendo è cercare di sfondare tra virgolette questo accerchiamento quindi anche le rivendicazioni territoriali di cui forse avrete sentito parlare nel mar cinese meridionale questo cerchietto queste isole nere cerchiate che sono delle isole che sono degli scogli praticamente che affiorano solo in alcuni casi quando c'è bassa marea eccetera eccetera e che loro stanno trasformando in delle isole artificiali in alcuni casi anche militarizzando cioè ci hanno fatto delle piste di atterraggio ci sono la possibilità di appunto ci hanno messo dei radar eccetera eccetera tutto questo ha lo scopo di rompere questo accerchiamento fondamentalmente questo accerchiamento americano perché la loro teoria la loro strategia militare è quella di riuscire a sfondare la prima fascia di isole che è questo grande semicerchio che vedete e arrivare addirittura a questa seconda fascia di isole che è questo semicerchio più piccolo che vedete sulla testa una classica strategia del gothic chi conosce gli scancchi cinesi appunto che ha una catena di pasca pagata e più una volta è da manuale questa è la contrapposizione che c'è e quindi diciamo il conflitto nordcoreano rientra anche in questa logica ovviamente questo ci siamo spinti per facilire però ho visto la natura globale è successo con l'Ucraina perché poi lì è lo stesso discorso l'Ucraina è un altro discorso insomma dei russi che non si vogliono trovare gli americani esatto che già c'hanno la colonia c'erano già troppi infatti anche in quel caso perché i russi hanno preso la Crimea perché in Crimea c'è l'unica base militare russa quella di Sebastopoli che permette ai russi di avere accesso al Marneo e al Mediterraneo e loro hanno preso la Crimea perché era salito a un potere un governo il nuovo governo ucraino che era un governo visceralmente antirusso infatti anche in questo caso diciamo ci sono due narrazioni di questo conflitto una è quella occidentale che in colpa la Russia di aver la Russia ha violato quello che ha firmato perché l'Ucraina da tutti i nucleari alla Russia quindi si smaltano tutto e poi loro devono rispettare i confini e quindi hanno smaltellato tutto l'arsenale nucleare e sono entrati ma questo non è la propria l'unica discussione esattamente al fatto che quando è crollata l'Unione Sovietica c'era una serie di testate nucleari in Ukraine e quindi loro hanno siccome la questione della Crimea è una questione storica perché la Crimea in realtà era russa dal 700 perché prima poi c'erano i turchi c'erano gli ottomani poi diventa russa e quindi ha una popolazione a maggioranza russa e ha tutta una storia legata alla storia di Mosca insomma essenzialmente però viene ceduta all'Ucraina da Khrushchev se non ricordo male durante l'era sovietica quindi era all'epoca era una cessione praticamente amministrativa perché erano tutti lo stesso paese quindi quando l'Ucraina diventa indipendente la Russia fa esattamente questa scelta cioè preferisce ricevere dall'Ucraina le testate nucleari che sono dispiegate in Ucraina e rinunciare almeno momentaneamente a rivendicare la Crimea in cambio di avere tutte le testate nucleari quindi l'Ucraina rinuncia alle prove testate e si tiene la Crimea quindi la Russia viola esatto e quindi c'è questa e questa è l'accusa che viene fatta dall'Occidente nei confronti della Russia quando loro sono entrati in Georgia 2008 prima la Georgia ha concesso dove ci sono stati giochi olimpici era da parte della Georgia e poi hanno concesso questa la Russia e i russi comunque sono entrati in 2008 il regalo allo fatto che non entrassino nella Georgia sono entrati anche anche lì c'è una la questione controversa però in particolare in Ucraina perché poi credo che sia questa la cosa più interessante diciamo per la nostra discussione e per la situazione attuale c'è questo scontro di narrazione proprio tra la narrazione occidentale che è quella che appunto dice la Russia sia in padronia della Crimea e ha violato un trattato e quindi ha violato gli equilibri post seconda guerra mondiale però quello che invece rivendicano i russi è questo cioè noi abbiamo è vero che noi abbiamo violato un trattato ma perché voi prima ne avete violato un altro e cioè quello che loro sostengono con alcune ragioni obiettivamente è che in Ucraina alla fine si sia consumato un colpe cioè quando c'è stata la rivolta popolare in Ucraina già alla fine del 2013 intanto questa rivolta ha coinvolto solo alcune parti del paese perché poi l'Ucraina è un paese che semplificando possiamo dire che ha due anime cioè un'anima orientale più filolussa tra virgolette molto semplificando e un'anima invece occidentale che invece è più filoeuropea di eredità asburgica cioè le regioni orientali facevano parte dell'impero asburgico quindi tant'è vero che l'Ucraina storicamente è un'entità che non esiste l'Ucraina nasce diciamo nel 1900 non esisteva prima e quindi è un paese che di per sé ha due anime quando quando scoppia questa rivolta si giunge nel febbraio del 2014 a un accordo per la creazione di un governo di unità nazionale Yanukovych che era il presidente ucraino accusato di corruzione giustamente perché era un regime corrotto oligarchico è un sistema oligarchico che si è creato all'indomani dello smantellamento del sistema comunista in Russia come in Ucraina in Russia come in Ucraina e quindi si è raggiunti a questo accordo per cui Yanukovych rinunciava tutta una serie di problemi presidenziali si giungeva alla creazione di un governo di unità nazionale che avrebbe dovuto portare a nuove elezioni per eleggere poi il nuovo Parlamento un nuovo presidente questo accordo venne siglato il 21 febbraio del 2014 alla presenza della Russia e quindi con l'accordo della Russia e di una serie di paesi europei in particolare se non ricordo male erano Germania Francia e Polonia se non mi sbaglio però il giorno dopo che cosa succede Yanukovych si trova nelle regioni orientali dell'Ucraina quindi non a Kiev l'opposizione si impadronisce dei palazzi del potere e impone un proprio governo quindi non più un governo di unità nazionale ma un governo dominato dall'opposizione quindi eliminando tutto il partito delle regioni che era quello di Yanukovych quindi che cosa succede se prima il governo di Yanukovych era un governo che rappresentava soprattutto le regioni orientali del paese il governo che impone l'opposizione è un governo che rappresenta esclusivamente le regioni orientali e soprattutto è un governo che ideologicamente e per eredità storica è un governo visceralmente antirusso cioè questi ce l'hanno a morte con la Russia tant'è che oltretutto c'è anche una componente di destra anche estrema non indifferente in questo governo e quindi i russi quello che dicono i russi è voi i paesi europei di fronte a questa situazione non dicono nulla e gli Stati Uniti nemmeno e i russi dicono voi avete disatteso l'accordo che era quello di creazione della creazione di un governo di un'unità nazionale per giungere alle elezioni avete imposto un vostro governo che è un governo che rappresenta solo una parte del paese e non tutto il paese e oltretutto questo governo era profondamente antirusso quindi loro avevano un accordo di gestione di questa base di Sebastopoli questa base militare di Sebastopoli era in affitto dato in concessione dall'Ucraina quindi loro hanno la quasi certezza di perdere questa base visto il governo antirusso che si afferma a Chieva e quindi si impadroniscono della Crimea fra l'altro anche con la popolazione locale è anche favorevole insomma quindi c'è questo scontro di narrazioni molto forte nella crisi ucraina e purtroppo è una crisi che ancora adesso è aperta ancora adesso si combatte ma non se ne parla tra le altre cose poi c'è tutta la rivolta della parte orientale il cosiddetto Donbass eccetera che è una rivolta fondamentalmente locale è vero che la Russia la sostiene però non è vero questo che si dice soprattutto gli Stati Uniti hanno detto che fosse un'invasione russa i russi hanno sostenuto questa rivolta non c'è dubbio ma è una rivolta locale perché oltretutto milizie ucraine dall'occidente sono andate lì per cercare di imporre il potere del nuovo governo che loro rifiutavano quindi è ne assorta una vera e propria guerra civile che ancora è ancora aperta e ancora adesso potrebbe riapputizzarsi nel senso che c'è la questione della possibilità di armare il governo ucraino contro i ribelli che è ancora dibattuta nel congresso americano quindi non si sa se Trump accetti o meno questa cosa ci sono una serie di questioni ora non so se vogliamo adesso neanche che orario abbiamo fatto siamo arrivati alle 8 beh si è stata una letterata però è passato ma come si chiama il libro il libro si chiama se Washington perde il controllo e questo è il sottotitolo crisi nell'unaconesimo americano e medieviente nel mondo e insomma cerca un po' di sviluppare tutte queste questioni di cui abbiamo trattato allora facciamo